Il comitato Terra Lieta dal Tordino, nato lo scorso mese di marzo, ha lanciato una petizione e anche un video di 4 minuti per chiedere la salvaguardia del territorio dove dovrebbe nascere, secondo il progetto approvato, il quarto lotto della Terra Omare. Noi stiamo facendo moltissime cose, di recente è uscito in video, il primo maggio avremo un altro evento dove faremo delle passeggiate ecologiche per le sponde del Tordino, per questi bellissimi terreni che comunque sono una risorsa. Noi abbiamo intenzione comunque, se tutto andrà bene, di continuare comunque con questa attività perché fino adesso questa zona, Piane Tordino, Colonia Spiaggia, Coste Lanciano ha dormito, è una zona che comunque ha bisogno di vivere e noi siamo intenzionati comunque a farla vivere il più possibile perché è una grandissima risorsa per il comune di Roseto. Dunque si allarga il fronte del no all'attuale tracciato del quarto lotto della Terra Omare, dopo la presa di posizione dell'amministrazione in seguito all'avvio da parte dell'ANAS della procedura per gli espropri in diversi terreni agricoli, continua il lavoro del comitato Terra Lieta-Valtordino, composto da numerosi cittadini proprietari dei terreni coinvolti. Su questi terreni praticamente dovrà passare la Terra Omare, una bretella praticamente dell'attuale strada che collegherà a Mocenostazione fino a Giulianova, fino alla zona del mare. E praticamente questi terreni saranno comunque espropriati, sono coltivazioni, qui abbiamo una coltivazione di spinaci dietro di noi e rischia comunque di non esserci. Questa è anche una coltivazione biologica per cui metterebbe a rischio tutto il raccolto, oltre comunque a tutti gli altri terreni che comunque verranno espropriati lungo tutta la strada. Noi comunque siamo aperti ad una soluzione, un'altra soluzione da parte dell'ANAS, non diciamo di no alla Terra Omare, chiediamo comunque che venga spostato il tracciato come era all'inizio, come era prima del 2018 e come è scritto nel piano regolatore del comune di Roseto, che anzi ringraziamo perché comunque ci sta aiutando moltissimo.